Buon pomeriggio dallo stadio Dall'Ara, questa è la cartolina bianca-azzurra e rosso-blu che arriva dallo stadio Dall'Ara, stanno per scendere in campo Bologna e Napoli. Avanza Eppdal, la possibilità di allargare per Marco Di Baio, in area di vigore Di Baio prova al sinistro, palla alta, Di Baio, prima occasione al quinto minuto. Mascara va via, ancora il triangolo con Dossena, in mezzo c'è Amsic, il pallone dentro per la Vecsi! Risponde il Napoli con il pocio! Lavezzi, al limite dell'area, Lavezzi può provare a calciare, c'è una deviazione da parte di Portano, avattaccio d'angolo per il Napoli che resta in attacco. Pazienza di prima a cercare Maggio, che bella palla di pazienza per Maggio, c'è Lavezzi in mezzo, eccolo Lavezzi in area, il tacco di Lavezzi, di Viano, Mascara! E' il sogno del Napoli! Continua il primo gol con il Napoli di Mascara, 1-0! Si è partito da un 2 contro 1 in fascia, non c'è stata una buona lettura, una buona sincronia tra Morleo e Cherubin, si è infilato bene, però bisogna dire che poi l'assist vero gliel'ha fatto Viviano a Mascara. Posizione regolare qui, da parte di Amsic, Amsic solo davanti a Viviano, Amsic c'è Lavezzi, Lavezzi supera Amsic, calcio di rigore per il Napoli. Fallo di Viviano su Lavezzi, Amsic dal dischetto, 11 metri di gioia per il Napoli, che mai come adesso vede lo scudetto, Marek Amsic, 2-0 a Bologna. Meggiorini, la sponda per Divaio, la mette giù col sinistro, prova! De Santis, con i guantoni. Attenzione a Divaio, Divaio contro De Santis, lo salta, Divaio! Esterno della rete! Prosegue il Napoli con Lavezzi che si è ripreso e punta adesso la difesa del Bologna, ancora Lavezzi. Con il destro, prova! Viviano, sta bene Lavezzi. Pazienza per Amsic, che bella palla, di pazienza, Amsic! Trova il suo vecchio amico Viviano, che questa volta gli dice no. Ancora Divaio con l'alcatestra per Boucher, c'è l'inserimento di Perez, ancora Boucher col sinistro, a piazzarla Divaio! Cosa ha fallito Divaio? Della Rocca il cross, c'è De Santis con i piedi. Poi prova Rubin e De Santis evita il 2-1 del Bologna. Finisce 2-0 per il Napoli a Bologna. L'appuntamento con la storia, il Napoli non lo fallisce. Aggancia e momentaneamente il Milan è in testa della classifica e crede sempre di più nello scudetto. Il sogno può continuare. La prima volta che mi trovo in questa situazione non posso essere che felice. Sicuramente sono belle sensazioni. L'importante è non montarsi la testa e continuare a lavorare con tanta umiltà. Perché penso che poi alla fine i risultati vengono lavorando bene e essere umili. Sorprendono tutti. Scudetto, dico Scudetto, cosa ti succede? Buonasera, arrivederci.